Buongiorno a tutti, ci troviamo al termine di una conferenza stampa che ha visto l'On. Coltraro dare annuncio della sua adesione all'articolo 4 a livello regionale. On. Coltraro, ci può appunto spiegare cosa è accaduto? Ho deciso di schierarmi con un movimento regionale di tipo moderato e centrista come articolo 4 perché è un movimento a cui io mi vedo proprio come cittadino, come politico e come deputato regionale e quindi ho deciso di iscrivermi al loro gruppo per esercitare sul territorio un'azione politica più efficace che possa portare dei risultati concreti all'interno dei vari comuni della provincia di Siracusa, cosa che non ho potuto svolgere all'interno del megafono, che è un movimento che di fatto non è mai partito, non è stato mai strutturato sul territorio, non ci ha mai permesso di fare un'azione politica attiva sul territorio, nonostante noi siamo stati uno degli aderenti come deputati della prima ora, nonostante ciò non siamo riusciti a esercitare all'interno del movimento delle azioni politiche efficaci, soprattutto nel senso che sotto un profilo politico era un movimento più legato a ideologie di sinistra, noi ce ne siamo resi conto poi nel tempo e quindi oggi abbiamo deciso di distaccarci da questo movimento e ritornare ai nostri valori principali che sono proprio quelli moderati. A livello locale per cui esiste un connubio tra quello che è il movimento SAL e l'articolo 4? Sì esattamente, già questo connubio è iniziato con le amministrative di Pachino e continuato con l'Europe in cui noi abbiamo preso posizione per votare la Giuffrita che era una candidata dell'articolo 4 dentro la lista del Partito Democratico e oggi poi sfocia nella mia iscrizione al gruppo parlamentare dell'articolo 4 all'Ars. Benissimo, grazie onorevole Coltraro, arrivederci a tutti da Rassegna Metropolitana e tutto Jessica Bellistri.